bentornati nella sala giochi di 80 voglia di arcade come state tutto bene anche quest'oggi eis al microfono qui a tenervi compagnia oggi ci occupiamo di apple di mac visto che in tanti ce lo chiedono ma si può emulare su mac ma che uso su mac oggi oggi vi faccio vedere un po di cose prima però vi ricordo di iscrivervi al nostro canale youtube se ancora non l'avete fatto cliccate sul mi piace se il video vi piace mandato ai vostri amici mandate un commento noi rispondiamo a tutti 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 se ci lasciate un commento noi rispondiamo sempre e se volete cliccate anche sulla campanella visto che così youtube vi avvisa di ogni uscita ogni volta che pubblichiamo un video lui vi avvisa passate se volete anche sui nostri social instagram twitter e tiktok dove ci trovate sempre con lo stesso nome 80 voglia di arcade 80 scritto a numero vi lascio anche il nostro sito internet www.80 voglia di arcade punto it dove c'è anche il nostro gabbinato è quello l'avete visto vi è piaciuto se volete informazioni siamo lì allora oggi siete pronti un'altra bella guida avete un apple io in questo caso un portatile della apple un macbook pro del 2013 quindi 10 anni volete fare un qualche cosa di emulazione di mamma io voglio fa un po di giochi voglio giocare allora gratuito sedetevi prendete appunti e iniziamo da google oggi andiamo a vedere come giochiamo su apple con open emu facile facile partiamo da google come vi ho detto già ci sono e scrivete proprio qui open emu tutto come l'ho scritto io guarda è qui sotto è tutto attaccato open emu il primo che esce fuori è quello che ci interessa open emu multiple videogame system cos'è open emu è un front end che contiene all'interno tutti gli emulatori open source e vi permette di giocare senza dover stare lì a configurare tutto ci pensa lui proprio facile 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 questa è la pagina che vedete è solo ed esclusivamente per apple non mi chiedete se ma gira su windows ma gira su android no questo è solo per apple quindi computer apple macintosh chiamateli come volete che cosa andiamo a fare semplice download now l'unica cosa che possiamo fare attendiamo che finisce il download lo apriamo aspettate che ce l'ho sull'altra finestra e adesso ve la faccio vedere eccolo qua questo è il file che ho tirato fuori dallo zip ok che faccio adesso ve lo faccio vedere semplicemente ci faccio doppio clic lui si installa vi devo spiegare come si installa un programma per apple spero di no è vabbè bisogna premere premuto il tasto alt sul mio il tasto alto non so se è cambiato con i vari sistemi operativi e si sono aggiunto dopo comunque lo dovete semplicemente installare spero che sappiate come si installa un programma su apple dopo di che una volta che si è installato lo trovate nelle app nelle app lo fate partire adesso ve lo faccio vedere io l'ho già installato ovviamente eccolo qua questo è open emu aspettate che chiudo chrome eccolo qua open emu supporta tutti gli emulatori che vedete qui a sinistra arcade che sarebbe il mame atari 2006 atari 6002 atari 7006 atari links coleco vision famicom che sarebbe il nes giapponese proprio famicom prima del nes scusate un errore mio game boy game boy advance game gear game cube intellivision neo geo pocket nes nintendo 64 nintendo ds pc fx sg 1000 siga master system megadrive megadrive 32x megacd saturn psp playstation 1 super nintendo turbo graphics 16 turbo graphics cd vectorex videopack virtual boy e wonders one è in continua evoluzione anche questo quindi non è detto che emulatori che oggi non ci sono domani magari ci siano possibilissimo allora cosa andiamo a fare per prima cosa per prima cosa dobbiamo copiare le rom come si copiano le rom è facilissimo le mettete su una pennetta le scaricate se già ce l'avete meglio ancora e vi faccio vedere quanto è facile io ce l'ho già ce l'ho in una pennetta prendiamo quelle del nes aspetta nes nes anzi quelle del mame dai sono un po troppe quindi poverino questo è il master system ma voglio qualcosa del mame guarda ok andiamo a prenderci una rom che ci piace ad esempio qua 1941 e 1942 e 43 le prendete col mouse e le andate a mettere in arcade basta fatto anzi aspetta facciamo così guarda arcade eccole qui 1941 42 e 1943 basta lo semplicemente copiate non ho fatto altro non mi dite che è difficile non mi dite che è difficile perché io non ci credo che è difficile lo faccio rivedere dai come di te ma io facevo no allora facile facile che prendiamo bubble bubble a prende bubble bubble magari se facciamo così eccolo qua guarda tac tac fatto facile direi di sì poi una volta che avete copiato le vostre rom prima di giocare sicuramente vorrete modificare i controlli ok allora fate doppio clic questa è la rom che sicuramente non gli piace eccola qua andate qui modifica controlli e allora scopriamo che per l'arcade è su giù sinistra destra poi scusate ma dalla non ci vedo inizia gioco 1 pulsante di servizio f2 pulsante 1 q v e a ok q e v inizia gioco abbiamo detto e 1 inserisci moneta e 5 ok se non vi piacciono ve li cambiate e questo lo possiamo mettere a tutto schermo inizia gioco e 1 e come vedete l'emulazione va che è una meraviglia io non ho dovuto configurare niente i tasti mi sono lasciato quelli q w però se volete quelli li cambiate qual è la cosa bella ve la faccio vedere subito se spegnete sei sicuro di arrestare il gioco sono sicuro esci se io ci rivado sopra guardate riavvia o riprendi da dove stavi se faccio riprendi lui riprende esattamente da dove ho chiuso il gioco poi la rom ogni tanto come in questo caso fa un po di bis e siete costretti a riavviare per forza però vi posso dire che con quelli del nintendo questo non succede questo perché la rom gli arcade ogni tanto se salvi la partita e la riprendi è un pochino s'arrabbiano vi faccio vedere che cosa un nintendo andiamo a vedere il nintendo nes ci ho messo un po di rom ovviamente prima volete vedere super mario bros via super mario bros vedete riprendi o riavviare anche in questo caso faccio riavviare lo faccio vedere dall'inizio schermo intero vado a fare modifica controlli avete visto che prima per il per l'arcade per il mame avevo meno meno voci qui in questo menu giusto questo caso ho un pochino più di voci perché l'emulatore nes supporta più opzioni ci sono i trucchi c'è il core se voglio utilizzare nestopia o fc u c'è la vista gli shader la scala se voglio fare uno per due per ok quindi andiamo a vedere in questo caso i comandi del nes modifica controlli vado a vedere che sono su giù sinistra destra start punto select virgola a e k e b e l perfetto poi ci sono anche qui è il core file di sistema eccetera eccetera però io ho visto i controlli queste select queste start come vi dicevo prima che sul nintendo funziona molto bene se io lo faccio ripartire e gli dico riprendi quindi riprendi esattamente dove eravamo metto pausa quindi non c'è bisogno neanche di salvare ma c'è il salvataggio vedete salva partita in corso esci io per esempio the legend of zelda che me lo sto rigiocando ok ho dei salvataggi quindi quando vado qua ultimo zelda ultimo zelda ultimo zelda eccetera eccetera se volete potete anche ricominciare da quel punto se non gli dite niente quando spegnete lo riavvi lo riva fate ripartire lui vi dice riavvio da dove stavo l'ultima volta oppure riparto da capo occhio che se fate riparti da capo perdete il salvataggio quindi se volete il mio consiglio è salvate sempre questo emulatore che si chiama open emu che una serie di emulatori un front end semplicemente funziona non dovete configurare niente di niente prendete lo scaricate non dovete prendere bios non dovete prendere file di configurazione dovete solo installarlo dopodiché ci mettete le rom e funziona basta semplice per certi versi è molto più semplice su apple che per esempio batocera per cui dovete fare la chiavetta installarla fare per farla partire dal bios eccetera eccetera questo funziona senza nessunissimo problema prendi e giochi vedete io mi avevo messo qualcosa giusto per farvi fare un giretto per farvi vedere per farvi vedere un po' di roba ecco pure il super nintendo una cosettina ce l'avevo messa ma è emulato bene veramente bene emulato non non ci so problemi di nessun tipo mega drive non ci ho messo niente master system nemmeno poi vedete il dove non c'è nulla ti dice trascina i giochi qui voi trascinate la rom e funziona semplicemente funziona ok spero che questo vi sia utile ma questo è veramente facile quindi mi aspetto domande anche qui se ce ne sono mi raccomando fatele non esitate scrivete sempre 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 e vi aspettiamo sul canale se ancora non vi siete iscritti iscrivetevi passate sui nostri social no prima vi ricordo anche di cliccare il mi piace quello è importante e di cliccare la campanella sempre sul canale youtube così almeno proprio youtube vi vi avvisa di quando noi facciamo un qualcosa di nuovo mi raccomando vi dicevo dei social ci trovate su instagram twitter tiktok ma ormai lo sapete già il nome è sempre lo stesso tanta voglia di arcade 80 scritto a numero e c'è anche il nostro sito internet www.ottantavogliadiarcade.it 80 ovviamente scritto a numero noi a questo punto ci vediamo la settimana prossima mi raccomando vi aspettiamo e se vi è piaciuto lasciate un like che a noi ci fa sempre piacere ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao ciao ciao